Eccoci giunti alla nostra rubrica settimanale dedicata al credito, argomento più che mai attuale per famiglie ed imprese. Questa settimana Stefano Di Ventura, direttore commerciale di Intercredit, ci parlerà di liquidità e credito di esercizio. Buonasera e bentrovati. Abbiamo parlato di che cos'era un confidi e stasera parleremo di un prodotto principe e anche forse il più richiesto in questo periodo, che è la liquidità o credito di esercizio per le imprese. Il credito di esercizio o liquidità è una forma tecnica finanziaria richiesta dalle aziende per generare liquidità all'interno della struttura economica aziendale. Solitamente viene utilizzato come finanziamento rateale con un ammortamento che va da 12 a massimo 60 mesi ed occorre all'impresa per generare una liquidità corrente e giornaliera, soprattutto in vista di rientri economici futuri. L'altra forma tecnica che solitamente può rappresentare la liquidità è data da una forma specifica di breve termine quale lo scoperto di conto corrente oppure anche l'anticipo fattura, contratti o salvo buon fine. Per giungere ad avere l'erogazione di questo credito di esercizio o liquidità l'intercredit interviene a favore del cliente socio nei confronti dell'istituto bancario con una garanzia sul patrimonio che può andare dal 50% fino al 90% dell'importo richiesto. Questa tipologia di garanzia, come tutte quelle rilasciate da Intercredit essendo esso soggetto vigilato da Banca Italia, è una garanzia a prima richiesta e permette quindi al cliente socio di trovarsi agevolato sia sul tasso di interesse ma soprattutto nella facilità e velocità di accesso al credito. Grazie per l'attenzione, ci vedremo la settimana prossima, parleremo di finanziamento per tredicesima mensilità e a conto imposte.